Come ha trovato la squadra dopo il derby? Quanta voglia c'è di continuare così? La squadra l'ho trovata sicuramente con un morale diverso. C'è una grande voglia di prendersi questa soddisfazione, di comunque svoltare da una situazione difficile e l'abbiamo fatto nel modo migliore. Nonostante magari una partenza un po' così, dove ci siamo trascinati un po' probabilmente il recente passato. Siamo riusciti invece poi a tirar fuori una prestazione che ci ha portato a prenderci e dare una grande soddisfazione a tutti. Credo che i ragazzi da questo punto di vista hanno avuto una reazione incredibile e giustamente in questo momento qua godono dell'entusiasmo, ma hanno anche la consapevolezza che non abbiamo fatto, abbiamo fatto una grande cosa, ma è solo l'inizio. Dobbiamo adesso continuare su questa fase di saliga, arrivare a lunedì col Parma e dare continuità a quello che abbiamo visto, soprattutto nella seconda parte, come atteggiamento, come tipo di partita, come tipologia di gara che dobbiamo fare. Che Genoa servirà per la gara di lunedì? Serve essere un po' sfrontati, avere coraggio, non fare le cose col freno a mano tirato, dobbiamo avere la capacità di essere corti e di avere la carica necessaria per arrivare prima degli altri sulla palla per poi vincere questa gara. Il derby ha portato via molte energie, è possibile che scenda in campo qualcuno che è rimasto a riposo giovedì? Mancano ancora un paio di giorni, mancano ancora tre allenamenti alla fine per arrivare a questa gara, per cui farò tutte le considerazioni, anche se poi nel momento in cui vinci le gare come di questo tipo, le energie le recuperi più facilmente, perché la testa poi alla fine dà stimoli importanti anche a tutto il fisico, per cui io sono convinto che la squadra lavorerà al massimo per poter dare continuità a quel tipo di prestazione, perché poi vogliamo veramente con forza continuare su questa strada. Che Parma affronterete? Come si può mettere in difficoltà la squadra di Liverani? Io credo che dobbiamo saper fare le cose nostre, saper fare quello che cerchiamo di assimilare e che in parte abbiamo assimilato e di farlo con una grande intensità. Io credo che passi tutto da quanta intensità, da quanta carica agonistica, da quanto coraggio metti nelle partite. È ovvio che poi ci vuole il sacrificio, ci vuole la testa, perché tutte le cose vanno fatte con testa e sono tutte componenti delle quali avremo bisogno per affrontare quella gara di lunedì. Grazie mister.